Il periodo di lockdown ha stimolato discussioni e creato crescente consenso attorno a una nuova idea di mobilità, quella che vede le bici e i piccoli mezzi elettrici come utile alternativa all'automobile, idea che arriva anche a Siracusa grazie all'Associazione Movimento Circolare Siracusa e a un'agenda politica che inizia a guardare alla realizzazione di piste ciclabili urbane. Il primo cambiamento passa però per il cittadino e grazie al decreto rilancio che permette a ognuno di acquistare entro il 31 dicembre 2020 biciclette anche a pedalata assistita o veicoli come subway, overboard e monopattini elettrici con un contributo pari al 60% della spesa sino ad un massimo di 500 euro per ogni acquisto, spiegano dal Meetup Siracusa. Il buono spesa ai residenti nei capoluoghi di regione, nelle città metropolitane, nei capoluoghi di provincia ovvero nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti. Il governo ha messo a disposizione 120.000 euro, aggiungo, gli attivisti del Movimento 5 Stelle. Anche il comune di Siracusa deve però fare la sua parte, non si può discutere in eterno di temi universalmente condivisi. Oggi le piste ciclabili urbane sono davvero una necessità e grazie ad alcune modifiche apportate al codice della strada è stata ora agevolata la circolazione dei mezzi di mobilità alternativa su apposite corsie ciclabile, spiega così il parlamentare Paolo Ficala del Movimento 5 Stelle, componente della Commissione Trasporti della Camera. Le imprese e le pubbliche amministrazioni con più di 100 dipendenti sono tenute ad adottare entro il 31 dicembre di ogni anno un piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente, finalizzato alla riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato e individuale, introducendo la figura del Mobility Manager, aggiunge ancora così il parlamentare Ficara. Ci sono tutte le condizioni per immaginare una efficace pedonalizzazione di ortigia riservata a mezzi elettrici privati o di servizio e pubblici per i collegamenti, ma anche gli spostamenti a nord del capoluogo, quindi verso la zona industriale, devono vedere il pieno rispetto di queste norme incentivate dal Governo. Restare immobili e ancora a vecchi sistemi di spostamento allontanerebbe ulteriormente Siracusa da quella realtà che non è più solo futura, ma già oggi presente, la mobilità sostenibile. Concludono così dal Meetup Siracusa.